Benvenuti ad una nuova videoprova dedicata ai prodotti tecnologici che andiamo a scoprire tramite il web. In questo caso ci troviamo di fronte ad una cover battery per iPhone 5 e 5S. In realtà fino ad ora le tre videoprove che abbiamo fatto riguardano tutte cover, ma vi assicuro che è soltanto un caso, però questa volta ci troviamo davvero davanti ad un prodotto di eccellenza assoluta e quindi sono veramente felice di potervene parlare. Eccellenza assoluta che è dimostrata dal fatto che il prodotto che vedete qui davanti è venduto addirittura nell'Apple Store ufficiale. Questo è un segnale che ci troviamo davanti a qualcosa di davvero di ottima qualità, perché sappiamo che l'Apple a riguardo ha delle regole severissime imposte già su tempo da Steve Jobs e quindi non vengono venduti nell'Apple Store i prodotti di terzi se questi non sono avallati come qualità tecnologica e qualità anche di immagine dalla stessa Apple. Vi dicevo che ci troviamo davanti a una cover battery. Di cover battery in realtà ne sono state fatte tantissime per gli iPhone, già dai tempi dell'iPhone 4 soprattutto, per poi arrivare adesso all'iPhone 6, di cui in realtà ancora credo non siano state sviluppate cover battery, ma vedrete che accadrà molto presto. Per quello che riguarda invece il 5 e il 5S ne sono state prodotte con il tempo tantissime e alcune anche molto buone, tipo quelle marcate dalla Smoothie. Il problema delle cover battery qual è? Intanto il peso. L'iPhone va a pesare molto di più e sappiamo insomma che una delle qualità dell'iPhone è proprio il suo essere molto leggero, molto sottile. E quindi sì, oltre al peso anche il fatto che inevitabilmente aggiungendo un'ulteriore batteria alla cover del telefono questo va a diventare molto più grande. Poi il terzo problema di questo tipo di prodotto spesso è stato quello della ricarica, ovvero difficoltoso ricaricare la cover battery a parte, bisogna sempre sfilare l'iPhone dalla cover per l'appunto, molti insomma utenti della Apple come il sottoscritto sono maniaci di tenere il prodotto nel miglior modo possibile, di non rigarlo, di non rovinarlo, perché insomma ricordiamo i prodotti Apple oltre ad essere il massimo della tecnologia sono anche dei veri e propri insomma oggetti di moda e questo insomma fa parte delle loro qualità. Quindi insomma c'erano tutti questi problemi riguardo a questo tipo di cover, come vi dicevo anche il fatto del dover sfilare e rinfilare l'iPhone, alcuni avevano fatto in modo che si potesse ricaricare direttamente il telefono dalla cover battery, quindi una doppia ricarica prima il telefono, poi la cover a seguire. Però c'è comunque un attacco diverso rispetto a quello che tutti insomma conosciamo degli iPhone che poi sarebbe questo. Chiaramente le cover hanno un attacco diverso per ricaricare la loro batteria perché questo è un brevetto della Apple e quindi di conseguenza si avevano un po' più di difficoltà. Quindi insomma erano diversi problemi riguardo questo tipo di prodotto. Ecco, questo Boost Case va a risolverli praticamente tutti e già questo è davvero eccezionale. Il costo ve lo dico subito è un po' elevato, sull'Apple Store sta intorno più o meno ai 100 euro, quindi insomma ci troviamo ad un costo piuttosto pesante. Però la qualità del prodotto è eccelsa, i problemi praticamente che avevano, ve l'ho detto e adesso lo andremo a vedere, sono stati risolti tutti quanti. È evidente che il prodotto però va a costare parecchio e poi soprattutto c'è la ricarica di essere venduto sull'Apple Store e tutto ciò che è venduto dall'Apple direttamente ha comunque un costo superiore rispetto ai prodotti commerciali. Affrontato questo che era il tema probabilmente, cioè il punto debole probabilmente, ovvero quello del costo, andiamo a fare lo spocchettamento e a vederlo e a provarlo. Intanto la confezione che ci viene proposta è elegante quanto il prodotto. La vedete? Si può anche aprire così. Insomma, ecco qui la cover, quindi un vero e proprio astuccio come un gioiello. Il colore? Il colore è d'oro, esattamente come il gold dei prodotti Apple. Qui insomma, se avete un iPhone gold, come nel mio caso, adesso andremo a vedere come il colore è praticamente uguale, ma chiaramente ne esistono diversi colori quindi che si possono adattare agli altri modelli dei phone. C'è in nero, c'è in bianco e poi ci sono anche dei colori più allegri tipo il rosso, il viola, il blu. Insomma, cioè veramente per tutti i gusti. Noi abbiamo preso il gold perché insomma ci piaceva proprio l'accostamento con il nostro telefono e lo riteniamo un po' il più elegante. Però vi ripeto, di colori poi a disposizione ce ne sono diversi quindi non è necessario prendere il gold che vedete qui. Quindi andiamo a fare il nostro hand packaging. Ecco qui, insomma, qui poi ci sono un po' di istruzioni ma non ne ha bisogno in realtà di molte il prodotto in questione. Troviamo la cover, troviamo il cavetto di alimentazione per la nostra cover battery, eccolo qua, e poi troviamo il manuale delle istruzioni. Perfetto. insomma, poche cose, ma precisato. Andiamo a levare la nostra cover dalla scatola. Il cavetto per ora lo poggiamo qui, chiudiamo e mettiamo questa da parte. Allora, vi dico immediatamente qual è la caratteristica principale di questo modello boost case di cover battery. Intanto ecco, vi faccio vedere probabilmente l'eleganza del prodotto, l'oro che vi dicevo. Ecco qui, prendiamo il nostro iPhone intanto. Ecco qui il nostro iPhone 5S. Eccolo qua. Vedete il gold. Io spero che la luce mi aiuti perché non è semplicissimo. Vedete comunque, ecco, che è lo stesso oro del nostro iPhone. E che ora... Appoggiamo un attimo qui. Vi dicevo, molto pesante, resistente e perfetta, insomma, nella sua linea, che comunque è quella classica di una cover battery. Voi direte, dov'è la novità? Ve la faccio immediatamente vedere quella che è la novità principale. Questa cover non si attacca direttamente al telefono nella sua interezza, ma è composta, ecco qui, da due parti. C'è la parte con la batteria, e una parte di cover slim, sottile, che può essere applicata all'iPhone semplicemente da sola. Quindi, ne prendiamo il nostro bell'iPhone, lo applichiamo sulla cover. Eccolo qua. Vedete che abbiamo una semplice cover slim, protettiva perché vi assicuro che non è leggera, color oro, come il nostro iPhone, o comunque del colore che voi poi andrete a scegliere. È rifinita, vedete la scritta Boots Case, quindi comunque è molto elegante. Ci lascia, insomma, tutti gli spazi per i nostri tasti. Ecco qui il tasto di accensione, qui abbiamo insomma il volume, il tasto per il mute, e dietro le nostre tasti per la cuffia e per la ricarica. Quindi può essere tranquillamente utilizzato qui. Questo vi dicevo, il problema che avevano le altre cover battery, ovvero il continuo dove sfilare e rinfilare l'iPhone dalla cover. Qui non è più necessario, anche quando non utilizzate la battery, ovviamente, ma volete l'iPhone fino, leggero, perché non state fuori tutto il giorno, perché pensate che non vi si scaricherà, eccetera. Quindi come se lo utilizzaste con una normale cover, elegante. Eccolo qui, ve lo portate dietro tranquillamente, senza alcun tipo di problema. nel momento in cui vorreste applicare la cover non bisogna montare o smontare niente, semplicemente si va ad agganciare, vedete, qui dietro ha i ganci sulla cover, si infila, ecco fatto, l'ha già riconosciuta, vedete, è già in ricarica perché io prima l'avevo accesa, qui c'è il pulsante di accensione che ci indica anche il livello di batteria, in questo caso è verde perché la carica è completa e insomma avete pronta la vostra batteria di riserva che potete tenere quanto volete insieme al vostro iPhone come si faceva normalmente, però ripeto, nel momento in cui dipesa troppo, non la volete più, volete, e poi adesso parleremo della ricarica, volete ricaricarla a parte, eccetera, non bisogna fare nessun tipo di sganciamento dell'iPhone dalla cover quindi rischiando di rigarlo con continui appunto con continui manovre, nel momento in cui appunto volete sganciare la vostra cover è sufficiente applicare un po' di pressione perché comunque è un po' resistente lo è, si va a sfidare la cover messa a parte e avete il vostro come dicevo iPhone con la cover slim. Allora, passiamo al discorso della ricarica. Altro problema che vi dicevo nelle batteri era il discorso di un attacco che poi è questo ok, diverso da quello che viene utilizzato normalmente dall'iPhone vedete la ricarica iPhone e come invece quello che poi viene utilizzato un po' comunemente da tutti questi tipi di apparecchi in questo caso il problema viene risolto perché la vostra battery la potete ricaricare a parte quindi semplicemente staccandola e collegandola con il suo cavo o a un computer con il cavo USB oppure attaccandola alle solite prese insomma con attacco USB alla presa della corrente e il vostro iPhone invece lo potete ricaricare con il suo cavo normale oppure c'è la seconda opzione che comunque è stata prevista ovvero nel momento in cui la cover è inserita potete utilizzare il suo cavo e in tal caso ricaricherete nell'ordine prima l'iPhone se scarico e poi la cover battery quando è inserita così vedete che abbiamo l'attacco per appunto per la ricarica e un attacco per un passaggio per poter attaccare la vostra cuffia molto largo che permette appunto di poter attaccare normalmente la cuffia al nostro cellulare il prodotto chiaramente con la batteria attaccata è pesante ma insomma questo è inevitabile quando abbiamo soltanto cover slim è molto leggero anche se è comunque protettiva al massimo quindi non preoccupatevi il materiale è un materiale tendente un po' all'opaco vellutato insomma per capirci quindi è molto elegante anche al tocco è proprio piacevole da tenere in mano come si richiede ad un accessorio dell'iPhone e del colore ne abbiamo parlato questo è un oro molto elegante uguale a quello della casa madre e poi ci sono altri diversi colori se doveste preferirne un altro ci troviamo vi dicevo davanti probabilmente ad una delle migliori cover mai prodotte in assoluto ve lo dice un maniaco un patito delle cover io davvero ne ho comprate negli anni per i miei vari iPhone di ogni tipo come dicevo anche nelle presentazioni che abbiamo già fatto ne abbiamo visti diversi modelli quindi veramente sono un appassionato da questo punto di vista e quello che ho sempre riscontrato è stato un po' il problema che ho sempre riscontrato nelle cover è sempre quello insomma che poi si tende con il tempo a cambiarle perché abbiamo bisogno di un prodotto abbiamo bisogno di un altro tipo di prodotto una volta della batteria una volta ci piace cambiare un'altra volta il colore e si vanno sempre a sostituire un po' se ne fa una collezione questa può essere davvero una cover definitiva appunto perché è elegantissima di un ottimo materiale vi fornisce due prodotti praticamente due prodotti praticamente in uno e soprattutto per chi con il telefono lavora o comunque ha bisogno di tenerlo sempre caricato dalla possibilità davvero di poterlo fare e di poterlo fare quando uno vuole senza il problema di dover appesantire sempre necessariamente il telefono c'è veramente di tutto ripeto io la definirei ecco se dovessi dare una definizione questa la definirei veramente la cover definitiva per l'iPhone 5S io direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo prodotto grazie ancora dell'attenzione vi ricordo che il boost case per iPhone 5 e 5S è in vendita direttamente sull'Apple Store al prezzo circa di 99 euro quindi insomma è un prodotto di eccellenza anche dal punto di vista del costo ma chi vuole tenere il proprio telefono in gran forma e ci viene particolarmente insomma il consiglio sicuramente di darci un'occhiata perché è un prodotto che non si può non consigliare alla prossima videoprova grazie a tutti per l'attenzione e mi raccomando seguite www.lucasvizzeletto.it ciao